Avvio con sconfitta per la Castellano Udas nella prima giornata del campionato di segheci nazionale maschile. I ragazzi guidati da Matteo Totaro hanno perso di due punti 71 e 73 conto scafati al termine di una partita particolarmente intensa. Nel primo e nel terzo quarto i padroni di casa non sono sembrati sufficientemente bravi, soprattutto a livello psicologico nel cercare di gestire una gara non semplice. Dal canto loro i campani, specialmente con Malachi, NCAA Universitaria e Esposito, hanno giocato una bella prestazione e soprattutto hanno messo in evidenza quale potrebbe essere questa stagione per loro. Per i riflessi della gara, comprese le interviste, l'appuntamento e con Radio Sport la giornata alle 18.